la sottoetica proveniente dall'africa i giorni più caldi che includono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi 38 in alcune città e oltre 7 gradi al di sopra della media questa stagione anche 10 oltre i valori stagionali sulle alpi occidentali spiegatei si prevede che lo zero termico ad alta quota aumenterà fino a 5000 metri l'ondata di calore dovrebbe persistere per l'intera settimana almeno fino a venerdì incluso quando si potrebbe avere un segnale di cambiamento ma per il vero punto di svolta dice l'esperto del cnr sarà necessario aspettare forse fino a domenica 27 o lunedì 28 agosto quando per la settimana successiva i modelli indicano un decisivo cambiamento di circolazione con temperature nella norma o leggermente più bassa per questa terza settimana agosto invece in toscana le temperature saranno 67 gradi al sopra della media con picchi 3839 gradi rispetto a una temperatura attesa per il periodo 3132 e la tendenza è simile per le altre maree del nord italia con milano piacenza bologna e anche torino fino a 37 gradi spiegatei l'unica nota negativa per l'italia la spagna il sud della francia quindi sottolinea il ricercatore del cnr è che l'aria calda risale al marocco ruota in senso orario attorno al grande dell'anticiclone arriva sull'italia dal nord est quindi più essiccabile portando una torrida calore era umido sensuale invece su francia svizzera germania austria